Ben trovati con l'informazione a cura di Meteo Calabria.net. Per i prossimi due giorni dovrebbe permanere ancora generale instabilità e più riprese. Un miglioramento è previsto nel corso della giornata di venerdì 24. Giovedì 23. Cielo parzialmente nuvoloso-nuvoloso su tutta la regione, con la possibilità di schiarite alternata a momenti piovosi, più probabili al pomeriggio e nell'entroterra. I fenomeni potrebbero assumere anche caratteri di rovescio temporale. Ventita i quadranti orientali sulle Ioniche e sull'Alta Calabria, a tratti anche moderati, deboli da nord-ovest sul Tirreno. Mari mossi, molto mosso solo l'Alto Ionio. Temperature in lievamento nei valori diurni, di poco sotto le medie del periodo. Condizione inizialmente improntata all'instabilità anche per venerdì 24 aprile, specialmente sulla Bassa Calabria. Dovrebbe seguire un miglioramento dal pomeriggio sera. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento.